Eccolo qua Mauro, ma chissà se veramente il mondo è senza... Il racconto che noi facciamo è assolutamente incredibile. Un mondo in cui se arrivasse qua gentile, o poi lo stesso, gentile, arrivano gentili avanzi di galera, in tantissimi contesti gentili, gelataio treviso per me, buona forma, sempre più in... Allora, purtroppo avendo il diabete devo centellinare, avendo il diabete devo centellinare, quindi prenderei una coppetta da 3,50 e mi mette il bianco del cremino, chantilly e... E se potesse un po' di cioccolato bianco e un po' di caramello. Beh, insomma, non essendo di Parma, io vengo qua non tantissime volte. Poi, mi fermo anche, l'alternativa qua, generalmente, è la... Mi verrà in mente, è la gelateria, dove peraltro il feeling è molto inferiore, molto, molto diverso. Continuo a pensare che sia magia allo stato pura. Vanillin purtro, qualcosa di rai. Io lo parlo dopo perché non si sa mai. Grazie. Anche i Babbi Natale. Che è vero. E insomma... Peccato che non ci sia una infinita distesa al coperno. Anche questo, vedete, anche questo è nuovo. E poi, anche questo è un po' di caramello. e ora io prendo la mia metformina questa sera me la sono me la sono portata si grazie 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 io ho chiesto il bianco del cremino un bianco non avessi mai detto io mi chiedo perché le persone debbanno lavorare in questo modo Solo il bianco, mi ha messo solo il bianco Qualcosa di reale Qualcosa di reale Molto bene 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 Non voglio inquadrare la signora Sospetto che No, non si preoccupa Tanto io ho solo tempo Ci sono luoghi, ci sono cose Davvero E' tutto bellissimo, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo eppure è una gelateria di fatto da sport, pensate se avessero più spazio, poi c'è il discorso del, guardate che meraviglia, non smetterei mai di raccontarlo, coccorabe, parlare di Bernie Iod diventerà nazionoro чи è tutto shouldjamelo, non smetterei敆are di Story, la 1964 задач, blindarasi. se lo fanno ancora, ma penso di sì. Mauro e Marisa, straordinari.